Che pezzo di cavallo! Hai visto i camerini? Non sono gli stessi che ieri ti hanno pettinato il cavallo! Non li hai visti? Sono qui ragazzi vestiti tutti con le magliette uguali stanno facendo una roba fighissima, stanno raccogliendo i soldi per beneficenza facendo lavori tutti strani, ieri ho visto uno che tosava l'erba E' bello bene Altri 5 caffè Non ne la faccio più, non è il cavallo, è l'erba Preparci, dobbiamo tornarci ai cavalli adesso, sono un gruppo di 4 tedeschi Vabbè fai sti 5 caffè Quello è bello lungo? Caffè signore? Sì grazie Tutto a posto signore? Se li vedi ai piedi ora Vabbè licenza Deve fare 5 km di camminata e la toletta tutta, grazie Grazie E poi le dia la pappa alle 14 dai Sì sì Ma poi mi compra la maglietta però eh Sì 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 io però la merda non la pulisco ma si è inutile no no non la pulisco ma si allora massi com'è andata ho venduto tre magliette e mi hanno regalato un pettine tu io guarda era andata malissimo 3 ore 10 di mancia poi alla fine fortunatamente una vecchia tenesca mi ha dato 20 euro ma siamo comunque non ce la faremo mai dobbiamo inventarci qualcosa disperati ma avete provato il crowdfunding? ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti